Matera come città della cultura europea 2019 intende sfruttare questa grande opportunità per avviare un processo di sviluppo che veda nella cultura e nella creatività lo strumento attraverso i quali attivare un processo di trasformazione. Intanto innovazione, innovazione nel settore primario, quello dell'agricoltura, Matera ha nel suo DNA la civiltà contadina e quindi non si può pensare allo sviluppo prescindendo dallo sviluppo del settore agricolo. Attraverso Matera 2019 noi intendiamo creare una vetrina dei prodotti lucani e perché no dei prodotti dell'area murgiana ma soprattutto dell'Italia meridionale e quindi l'intento è di fare di Matera 2019 un laboratorio di sviluppo, di progettazione del futuro, un motore di sviluppo innovativo e attraverso questo coinvolgere tutti i settori e in particolare il settore dell'agricoltura.